partita soffertissima partita davvero soffertissima e di oggi salvo solo il risultato perché la prestazione a me non mi è piaciuta assolutamente si soffre a bestia ogni volta per vincere bisogna lasciarci un organo bisogna lasciarsi lo stomaco eccetera eccetera non va assolutamente bene bisogna cambiare andazzo perché non si incontra sempre il frosinone l'udinese e la roma che in mezzo a una strada prendo questi tre punti va bene così però sicuramente non sono assolutamente contento di questa prestazione salvo i tre punti la squadra e lo specchio dell'allenatore di fatti abbiamo preso due gol da terza categoria il secondo gol veramente inguardabili non ho visto neanche prendere il gol così all'oratorio in due sul pallone non trovano più il pallone errori gravi gravi non attacchiamoci che mancano difensori manca quello manca l'altro l'off to check che gioca in una posizione non sua perché l'off to check non è assolutamente un regista e continua a metterlo regista non lo so ragazzi non lo so io non sono assolutamente contento poi vedo quelli che prendono per il culo l'inter la juve intanto l'inter e la juve si stanno giocando uno scudetto noi se vogliamo giocarci uno scudetto dobbiamo cambiare andy assolutamente jovic andava messo prima però ha deciso di metterlo dopo va bene così i cambi li decide lui piori il grande allenatore miracolato paraculo e boh non c'è nient'altro da dire ragazzi non c'è nient'altro da dire salvo solo i tre punti perché del resto non sono assolutamente contento vediamo quando giochiamo con le squadre che contano se se portiamo a casa i punti allora se portiamo a casa i punti li chiedo scusa ma dubito vedremo vedremo vi aspetto a tutti